Salve a tutti, sono Roberto Sabattino, sono il coordinatore della Commissione Ingegneria Forense Ordine Ingegneri di Venezia. Siamo un gruppo di colleghi e ci occupiamo di consulenze a livello giudiziale. Curiamo molto gli aspetti sia tematici per quanto riguarda la base, diciamo quindi le norme che devono essere seguite, ma anche cerchiamo di affrontare e proporre suggerimenti ai colleghi per migliorare quella che è l'attività dell'ingegnere consulente forense. E quindi organizziamo e promuoviamo dei corsi con la nostra fondazione, potete trovarli tranquillamente sul sito, collaboriamo attivamente, abbiamo una chat interna e abbiamo un continuo scambio con la segreteria dell'ordine. Allora che i colleghi hanno problemi, segnalano all'ordine, l'ordine in qualche modo gira i quesiti a noi della Commissione, ci confrontiamo e cerchiamo in tempi più possibili e rapidi di dare dei suggerimenti che possono essere utili per svolgere al meglio e al massimo l'attività forense. Spaziamo dall'ambito consulenza informatica, consulenza in ambito di costruzione edilizia, trasporti, infortunistica stradale, infortuni sul lavoro, quindi siamo una bella commissione. Siamo ovviamente sempre aperti e disponibili a ricevere e a collaborare anche con nuovi colleghi, per cui se qualcuno di voi è interessato o ha degli argomenti che possono essere di interesse generale, può semplicemente mandare una mail alla segreteria dell'ordine chiedendo che venga svolto un corso sulle tematiche che ritiene più importanti o più di attualità. Se poi qualcuno vuole aggiungersi alla nostra commissione è sufficiente fare la domanda sempre in segreteria, sarà senz'altro benvenuto e a noi farà molto piacere collaborare assieme.